Ciao ragazzi, bentornati. Oggi facciamo dei ricacciatori dei film. Allora, primo giocatore, con una mara di gioco. Allora, primo gioco, caldo, 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 palo di pala, della gentina, molto bella. Allora, Cristiano Nonato, del Portogallo, poi Iguain dell'Argentina, sempre, poi Iguain della Francia, Antonio Grisman della Francia, un giocatore molto bello, ragazzi, poi Marco Marcello, più bravo del Brasile, poi Iguain, sei giovelo dell'Argentina, sempre Tindy dell'Argentina, aspetta, ecco qua, Pogba della Francia, Giorgione preferito, Giorgione della Francia, Neymar del Brasile, di Maria dell'Argentina, Pogba della Francia, Giorgione della Francia, Giorgione della Francia, Giorgione della Francia, Pogba della Francia, Giorgione della Francia, Giorgione della Francia, parliamo ragazzi e abbiamo seggiolamos della Spagna parliamo Martian è un primario della Francia e il scopo della Spagna ok ragazzi iniziamo subito a prendere gli altri che sono sono già arrivati tante le riviste devo prendere le ragazzi non c'è l'esco lo devo prendere allora di vita c'è allora di vita c'è uno ecco uno due tre aspetta aspetta aia ragazzi uno adesso uno due tre quattro cinque deco cinque c'è ragazzi sei ragazzi aia molto pesante non c'è l'esco ne ho prendo spetta ragazzi da non c'è uno due tre quattro sete sete Allora, ragazzi, sette, allora, aspetta sette, poi c'è l'otto. Aspetta, che... Oh, cinque. E poi nove. E poi ci sono poche riviste. E la cassa. E' finire. Dieci! Adesso finisce il programma delle tingli cacciatori. Adesso ci sta la confezione. Adesso ciao! Adesso... Oh... Oh... O...